Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere L'Ipnosi Soluzione, L'Ipnosi DCS, vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad un signore di Amsterdam, Olanda, che mi fa questa domanda, dottore, ma secondo lei cos'è la vita? Cos'è vivere? Rispondo a questo signore, rispondo anche a te che mi ascolti. Vivere significa avere quel famoso equilibrio dentro e fuori, quell'armonia, liberi da tutte le ragnatele, le nuvole nere del passato negativo e tu vivi, vivi alla grande, come quando vivi in quei giorni bellissimi che non vuoi che finiscano mai. Come fare per raggiungere questo risultato con il potere della tua mente, se sai come fare, e con l'Ipnosi DCS, vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, anche partendo da un solo audio MP3 DCS, come ad esempio ego entusiasmo, oppure no passato negativo, oppure in base alla tua personalità o quello che hai, quello che ti hanno diagnosticato, come ad esempio no depressione, no ansia, no panico e compagnia bella. Sei tu l'artefice del tuo destino. L'Ipnosi DCS è vera e professionale con la V maiuscola, anche con un solo audio MP3 DCS, senza neanche fare sessioni online. L'Ipnosi DCS è vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo e che peraltro sono sospesa al momento perché sono molto impegnato e non ho molto tempo. Puoi veramente eliminare, seguendo le istruzioni molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro, tutto ciò che ti sta impedendo in questo momento di spiccare il volo, di camminare sulle acque. E non lo dico perché il mio interesse è quello di vendere audio MP3 DCS, sto bene per le prossime 37 vite, ho ceduto tutti gli audio MP3 DCS e tutti i diritti alla mia associazione, i prologi associati, lo Seggio, Sbevi Reels. Te lo dico perché la mia mission, la mia missione finché vivo, finché respiro, è quella di diffondere, divulgare le mie esperienze dirette e indirette. Non mi interessa se c'è qualcuno che si fa il sorrisino, critica, non mi interessa, oltretutto partito da studente, lavoratore senza una linea in tasca, sto bene per le prossime 37 vite. Grazie a Dio, grazie al mio subconscio e grazie all'Ipnosi DCS, vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, per cui non ho bisogno di mangiare vendendo audio MP3 DCS. Pauca intelligenti, spoghe parole alle persone intelligenti. Detto ciò, se solo sei te, oppure uno dei tuoi cari, le avete provate tutte, siete andati in giro nel mondo, in lungo e largo, e non avete trovato quello che veramente fa per voi, non migliorie, non leggeri miglioramenti, ma veri e propri cambiamenti per il bene tuo ed il bene dei tuoi cari. Beh, usa l'Ipnosi DCS, vera e professionale, unica al mondo, e ti meraviglierai anche con un solo audio MP3 DCS, di cosa può fare questa potente, potentissimamente, che hai tra le due spalle. Ok, fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni. Visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, Ipnosi e Ipnosi del Dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi, Soluzione DCS del Dottor Claudio Saracino, e fa share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla, che gli può e ti può cambiare la vita, e seguimi anche sui altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi, Soluzione DCS del Dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio amico a mia amica mia, e alla prossima, dal Dottor Claudio Saracino. Alla tua, ciao. Alla tua, ciao.